buongiorno a tutti mi chiamo Eduardo J ho 29 anni e vivo a Monza faccio questo video in modo così da fermi ben più conoscere dalle aziende che cercano e vogliono assumere questo loro tipo di persona anale ma fatemi raccontare meglio per quali aziende ho lavorato e perché mi dovreste assumere io ho cominciato facendo varie esperienze lavorative con varie aziende e facendo gli stage da ben il 2007 ed ho lavorato per varie aziende come Natco International, Mascrepa, Sanofi, Cooperativa Sociale e Spazio Aperto dove ho lavorato nel magazzino assemblando vari oggetti nella società umanitaria di Milano dove negli ultimi 4 anni mi occupavo di vari lavori come la sicurezza degli ambienti e la consegna di vari oggetti agli uffici e il controllo del magazzino i vari lavori che so fare sono molti so usare abbastanza bene il computer so fare vari lavori di segreteria so anche assemblare molto bene vari tipi di oggetti sono molto preciso ed attento ai vari lavori e me la cavo anche molto bene nei lavorette manuali i miei interessi sono il modellismo il cinema i film la cucina il cosplay la figlia del fumetto e gestisco un piccolo canale youtube i miei punti di forza è che so essere un buon lavoratore simpatico solare attivo ed energico e aprendo molto velocemente i vari tipi di lavori i nuovi che mi danno e sono anche molto veloci nel compito questo tutto di me grazie per la minima per la vostra attenzione e buona giornata